Da Costantino Nivola, grazie a De Leda, il Consiglio regionale aderisce alla manifestazione dei monumenti aperti anche quest'anno celebrando un grande sardo. Sì, è proprio una scelta, oltre all'apertura del palazzo che sarà visitabile nella parte degli uffici di presidenza, nell'aula, credo che sia già interessante, abbiamo deciso anche quest'anno di arricchirlo con una mostra importante dedicata a Grazia De Leda, da 80 anni dalla sua scomparsa, 90 anni dall'attribuzione del premio Nobel, quindi una data importante che vogliamo celebrare. La celebriamo con una mostra che è allestita all'ingresso del palazzo della regione, visitabile da tutti a partire dal 14 pomeriggio e andrà avanti per tutto il mese e che consentirà di vedere tutta quanto una serie di inediti, una ricostruzione della vita delle opere di Grazia De Leda, compresi degli scritti inediti che fanno parte del patrimonio del Consiglio regionale, di lettere che descrivono e entrano nel merito del clima, del periodo. Poi ci sono tutta una serie di, la parte finale che riguarda opere di autori, di artisti che hanno lavorato nello stesso periodo di Grazia De Leda, quindi si ricostruisce anche il periodo e il quadro culturale all'interno del quale ha operato la nostra scrittrice e credo che sia una mostra importante, inedita, interessante e di grande rilievo. Rimarrà aperta tutto il mese e consentirà di essere visitata da tanti, io credo, così come quella di Nivola, lo scorso anno ha fatto oltre 3.000 partecipazioni, 3.000 ingressi e credo che questa possa anche superarli ed è una mostra che merita di essere, quindi l'invito a tutti quanti, merita di essere visitata e invito tutti quanti ad esserci.